Andiamo! Per caso Twitter ci ha appena confermato che andranno ad aggiungere Bitcoin nella loro piattaforma come forma di servizio per dare mangi agli utenti? Ovviamente parleremo di questo. Parleremo anche del fatto se siete interessati ad effettuare un nuovo trade in questo momento. Chiaramente qui abbiamo la mia linea arancione ai 33.000 dollari. Che cosa significa questo? Che andremo giù verso il basso a toccare i 30.000 dollari nuovamente? Queste sono informazioni importanti da sapere. Inoltre parleremo anche di Ethereum, parleremo anche della dominazione BDB coin rispetto alle altre monete. E in quanto se siete interessati ad accumulare altri altcoins questa potrebbe essere una buona buona opportunità. Inoltre vi darò altre informazioni anche importanti. Comunque sia, bentornati a tutti. Il mio nome è Cristiano portandovi un nuovo video riguardo le criptovalute ogni giorno, insegnandovi come fare soldi in questo tipo di mercato. Se siete nuovi nel canale assicuratevi di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche. Ok, parliamo subito di Bitcoin adesso. Nel grafico da candele da 4 ore abbiamo ricevuto un rifiuto un paio di giorni fa, il 21 luglio, circa quasi 48 ore fa. E adesso abbiamo invece anche aggiunto ancora un punto più alto. Ma è ovvio che questo livello qui è molto molto importante ed è una resistenza molto forte. Ma chiaramente lo sapete già in quanto ve ne continuo a parlare ogni giorno. Ma adesso la situazione è questa. Abbiamo questa resistenza e dovreste stare molto molto attenti prima di aprire una posizione per comprare rialzo. Adesso come trade a breve termine. In quanto adesso abbiamo anche le medie immobili. E la situazione per quanto riguarda le medie immobili è che siamo sopra la media dei 50 giorni, nelle candele ovviamente da 4 ore. Siamo anche sopra la media dei 100 giorni, ma non siamo ancora sopra la media da 200 giorni. E controllate questo, la media da 200 giorni sta rendendo la resistenza nella mia linea arancione ancora più potente. Insomma, questo non è il momento per comprare in rialzo. Se vedremo superare questa linea vi sarà un rimbalzo decisamente, decisamente significativo. Ma se invece parliamo di probabilità, questa resistenza è troppo solida. Specialmente se consideriamo il fatto che nel grafico con candele giornaliere abbiamo anche quest'altra resistenza qui a 34.000 dollari. Insieme alla mia media da 50 giorni che ci rallenta ancora di più. Quindi tutta questa zona, considerando anche la linea arancione a 33.000 dollari e la fascia poi arancione a 34.000 dollari, rappresenta una resistenza molto molto solida. Possiamo superare queste resistenze? Sarà possibile. Ovviamente, però dobbiamo fare un passo alla volta. Prima di tutto dovremo superare la linea arancione assieme alla media blu da 50 giorni e allora da lì potremo riparlarne. Ma se non andremo a fare un movimento decisivo verso l'alto, è molto molto probabile che riscenderemo a testare il livello dei 30.000 dollari nuovamente. Certamente se andiamo a riscendere qui in basso, sapete già quale sarà il mio piano, continueremo ad accumulare sempre più profitti e vi mostrerò esattamente cosa andrò a fare, esattamente a quali livelli andrò a comprare e vi mostrerò il mio trade. Se quindi insomma è qualcosa che potrebbe interessarvi e volete essere aggiornati su questo, allora mi raccomando, assicuratevi di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche. La campanella delle notifiche in realtà è la cosa più importante. Quindi adesso continuiamo. Abbiamo parlato per quanto riguarda Bitcoin nel grafico con cantere da 4 ore. Abbiamo parlato di Bitcoin nel grafico giornaliero in questa situazione qui. Adesso invece andiamo a parlare per quanto riguarda questa formazione. Si è formato quello che sembra essere una specie di canale o una specie di cuneo. La cosa importante comunque è che se anche andiamo ad estendere queste linee, vediamo che le candele rispettano il tracciato esattamente. E più le prolunghiamo, più sembra formare un cuneo in discesa. Abbiamo visto anche un'uscita da questa formazione, per esempio in questa zona. Questa era un'uscita esattamente da manuale. Siamo usciti fuori, abbiamo ritestato il livello. Abbiamo poi visto questo grande rigetto e da questo rigetto siamo scesi di circa il 6% circa nelle candele da 4 ore. Il che non è male, ma adesso siamo nuovamente dentro la formazione. Stiamo rispettando questo livello, quindi fate attenzione a questa formazione in quanto è qualcosa che potrebbe servirvi per via del fatto che potremmo continuare a testare su e giù questi livelli. E questo insomma non è qualcosa di unico per quanto riguarda le cripto, ovvero che usciamo dalla formazione per poi subito rientrarci. È una specie di inganno, quindi prima di andare poi a seguire questo modello. Comunque vi terrò ovviamente aggiornati a riguardo. Adesso invece, prima di andare a parlare per quanto riguarda le news che abbiamo trovato riguardanti Twitter, se volete iniziare a fare trading su Femex e ricevere bonus fino a 1200 dollari, beh assicuratevi di iscrivervi qui utilizzando il mio link che troverete nella descrizione del video, in quanto aiuta moltissimo a supportare il canale. Quindi grazie, grazie mille. Parliamo invece adesso di Ethereum, in quanto sta andando abbastanza bene, ma ha anche raggiunto questa resistenza qui sopra. Quindi se avete aperto una posizione per shortare da questa resistenza, beh avete già fatto circa il 3% di profitti, il che va benissimo. Ma adesso vedremo se avremo abbastanza un momentum per superare questo livello. Questo è il primo stop che abbiamo. Infine poi dovremo anche raggiungere il livello qui sopra dei 2193 dollari. Quindi fate molta attenzione a questi livelli per quanto riguarda Ethereum. Invece adesso parliamo per quanto riguarda la dominazione di Bitcoin. Solitamente la conturiamo nel grafico con candela 4 ore. E questo invece è il grafico giornaliero. E come sapete ho detto che una volta che avremo raggiunto il 52% di dominazione, avrei cominciato ad accumulare più altcoins. Ma adesso abbiamo questa formazione. Guardate questo bellissimo triangolo qui per quanto riguarda la dominazione di Bitcoin. E se vediamo le candele e andare verso il basso, qui significherà che gli altcoins avranno un altro bel rimbalzo. Questo è qualcosa da tenere assolutamente sotto controllo. Ovviamente non ho una sfera magica. Non so in quale direzione andrà. Ma solitamente questa formulazione è un continuo di un trend. E come potete vedere qui sotto siamo scesi per quanto riguarda la dominazione di Bitcoin. E probabilmente vedremo un altro trend verso il basso per Bitcoin. E invece un rally per quanto riguarda gli altcoins. Fatemi sapere nei commenti quali altcoins vorreste comprare. Se volete comprare appunto altcoins in questo momento oppure no. Adesso invece voglio parlare di questo post che in realtà è stato postato su Twitter. Ciò che mostra in poche parole è il flusso in entrata nell'exchange. E solitamente quando si cominciano a vedere grandi flussi in entrata è un buon segno per la continuazione in positivo del mercato. Quindi come potete vedere qui abbiamo avuto un grande flusso in entrata. Fino a tornare indietro al 2017 praticamente. E dopo questo grande flusso in entrata abbiamo visto questo grande movimento verso l'alto per quanto riguarda Bitcoin. Inoltre anche in questo punto che era vicino al punto più basso in quel periodo abbiamo avuto un grande movimento verso l'alto per quanto riguarda Bitcoin. Nuovamente quando abbiamo avuto il crash del Covid Bitcoin è stato da 9.000 a 3.000 dollari abbiamo avuto un grande flusso in entrata ed il prezzo è salito di molto. Ovviamente il flusso in entrata è la linea blu mentre invece il prezzo di Bitcoin è la linea gialla. Adesso quello che vediamo è il punto più alto per quanto riguarda il flusso in entrata per Bitcoin nell'exchange e quello che ci fa chiedere è se questo è il punto più basso per Bitcoin. Ma ovviamente vi dico da tempo fatemi un attimo adesso controllare invece il grafico con candele da 4 ore. Vi ho sempre detto da quando siamo arrivati a questi livelli che il livello dei 30.000 dollari potrebbe essere molto probabilmente il punto più basso per quanto riguarda Bitcoin. Se parliamo per esempio della probabilità direi che questo è il 65% contro il 35% che questo potrebbe essere il punto più basso che non andremo sotto a questi altri livelli quindi come per esempio il livello che abbiamo sotto a 20.000 dollari. Quello che dico è che potrebbe essere il 35% di probabilità che scendiamo qui in basso, più in basso dei 30.000 dollari e che abbiamo il 65% di probabilità che invece i 30.000 dollari era il punto più basso. Comunque potremmo toccare questo livello diverse altre volte prima di andare a schizzare verso l'alto. Adesso ragazzi invece parliamo di questo articolo riguardo Twitter. Bitcoin avrà una grande parte del futuro di Twitter dice il CEO Jack Dorsey. Ha avuto una chiamata ieri ed ha rivelato queste informazioni che facevano parte di questa dichiarazione finanziaria che devono fare a Twitter e Jack Dorsey è il CEO insomma di Twitter. Quindi nel secondo trimestre del 2021 nella conferenza dei guadagni di giovedì Dorsey ha detto che Bitcoin è il miglior candidato per diventare la valuta nativa dell'intero internet e che significa che le persone e compagnie potranno tranquillamente scambiare beni e servizi da qualsiasi parte del mondo. Inoltre se andiamo più sotto ha anche detto penso che questo insomma Bitcoin sarà una grande parte del nostro futuro. Penso che ci saranno un sacco di innovazioni a parte le criptovalute specialmente se pensiamo alla decentralizzazione dei social media e fornendo incentivi più economici. Quindi penso che sia estremamente importante per Twitter e per gli azionisti di Twitter continuare a guardarci più a fondo e cominciare ad investirci aggressivamente a aggiunto. Quindi Twitter comincerà forse a raggiungere Bitcoin ai loro bilanci ma andiamo comunque sia più a fondo a parte Bitcoin Twitter è molto focalizzata sulla decentralizzazione ha aggiunto Dorsey durante la chiamata circa i bilanci. Twitter sta perseguendo un'iniziativa chiamata Blue Sky per costruire un social media aperto e decentralizzato. E dove dice che appunto cominceremo ad integrare Bitcoin nelle loro piattaforme? Beh, proprio qui dove dicono che Bitcoin sarà una grande parte del loro futuro quindi del futuro di Twitter. Penso che ci sarà un sacco di innovazione da aggiungere quindi decentralizzando i social media e aggiungendo Bitcoin come servizio per i social media. Comunque insomma il prezzo del Bitcoin non sta comunque sia andando molto verso l'alto non si sta muovendo di molto anche dopo questa news magari questo rimbalzo aveva a che fare con questo ma generalmente quando abbiamo queste news di questo genere il prezzo del Bitcoin dovrebbe andare ancora di più verso l'alto. Forse abbiamo troppa resistenza forse c'è qualcos'altro dietro che non sappiamo oppure molte persone non conoscono o credono a questa notizia nonostante sia stato detto appunto dal CEO di Twitter lui stesso. Non so perché il prezzo insomma del Bitcoin non è reagito diversamente ma vedremo cosa succederà nel futuro. Grazie comunque sia per guardare questo video e ci vediamo nel prossimo. Grazie. 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 Grazie.